Sì Pasquale, buongiorno da Termoli, buongiorno dal parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale Santimoti, un ospedale che stando a quanto indicato dalla ASREM potrà riaprire proprio da domani, mercoledì 18 marzo. Alle mie spalle, la vedete, c'è una tenda allestita da poco che servirà per il pre-triage, un po' come è avvenuto anche in altri ospedali. Si tratta di un luogo filtro, il nuovo accesso del pronto soccorso dell'ospedale dove arriveranno tutte le persone che necessitano proprio di questo servizio di emergenza. Sono stati previsti anche dei percorsi attrezzati in sicurezza, l'ospedale è stato chiaramente sanificato e sono previste poi dei controlli anche per il personale che tornerà in servizio. Questa tenda è stata montata dalla Protezione Civile Regionale in collaborazione con la Misericordia di Termoli e l'Associazione Ampa di Boiano. Tutto è in corso, è un cantiere aperto, un po' l'ospedale per riorganizzare i turni, gestire il personale, tutto ciò che servirà per questa riapertura graduale che, lo ricordiamo, avviene a distanza di quasi 14 giorni dalla chiusura e dalla necessaria sanificazione del presidio ospedaliero. Sono previsti, come detto, anche dei percorsi in sicurezza attrezzati. Tutto è in corso di gestione e di allestimento per verificare anche tutte le persone che arriveranno e quindi anche eventuali possibili casi sospetti di coronavirus. Lo ricordiamo, non bisogna venire al pronto soccorso ma chiamare prima i numeri della regione in caso di sintomi sospetti che potranno quindi essere poi gestiti e guidati da personale specializzato. Altro fronte, questo è l'ospedale di Termoli, ma c'è anche un'altra pressante richiesta positiva, quella della riapertura dell'ospedale di Larino. Il sindaco Pino Puchetti, condividendo questa nota anche con altri amministratori e con le comunità, ha chiesto di poter riaprire il Vietti. Quindi questa nota è inviata al ministro della Salute Roberto Speranza e al capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli. Si chiede la riapertura in particolare del pronto soccorso dell'ospedale Vietri in un'area, quella del Basso Molise, dove vivono oltre 100.000 abitanti. In questa nota inviata da Puchetti si fa riferimento anche alle dotazioni dell'ospedale di Larino, oltre a chiaramente evidenziare le buone, ottime condizioni a livello strutturale. Si parla dell'emodialisi, della camera iperbarica, unica tra le regioni anche confinanti con il Molise e poi anche le attrezzature di terapia intensiva di rianimazione ancora presenti, mai utilizzate, che necessitano, come scrive Puchetti, solo di essere testate per essere rese funzionali. Questo è un altro aspetto da considerare e da volutare, sperando chiaramente che non sarà necessario gestire queste emergenze. Un ultimo aspetto, quello della presenza anche qui al pretriage, al cantiere, come l'abbiamo definito, del ospedale Santimotio prossimo alla riapertura del sindaco Francesco Roberti e dell'amministrazione comunale. hanno fatto un sopralluogo per verificare proprio lo stato degli interventi. E un'ultima nota di condivisione, proprio il sindaco ha incaricato l'associazione SAI 112 di consegnare dei panini preparati dalla Caritas di Termoli Larino e destinati agli operatori che con spirito di abnegazione hanno allestito la tenda destinata al pretriage. Pasquale, se non ci sono delle domande da studio, io posso restituire la linea a Campobasto. Ci risentiremo per eventuali aggiornamenti.